È lo sport olimpico dove l'Italia ha vinto più medaglie e ori di qualsiasi altro paese. Forse è per questo che durante le Olimpiadi la passione per la scherma si riaccende. Il rilancio mediatico dato dalle competizioni olimpiche è fondamentale, ma è nelle palestre locali che la scherma prende vita ogni giorno. Nel Tiguglio il club Scherma Rapallo festeggerà nel 2026 40 anni dalla fondazione, un'esistenza prestata all'educazione verso i valori della scherma e alla crescita degli atleti futuri. L'anno è stato un anno direi molto soddisfacente a livello di risultati. Abbiamo avuto una campionessa italiana nella categoria ragazze e un vice campione italiano nella stessa categoria di fioretto maschile. Però direi che c'è un gruppo di ragazzini sotto che cresce molto bene. Il nostro obiettivo per la prossima stagione è quello sicuramente di allargare i numeri alla base perché abbiamo bisogno di più iscrizioni. Quindi speriamo che con le Olimpiadi e questi eventi e il lavoro nelle scuole si possa tirare su un gruppo di ragazzi perché questa è una palestra che merita davvero tanto. Una palestra che ha già un legame con i cinque cerchi olimpici. Bianca del Carretto partì da qui per arrivare a competere nella spada a Londra 2012. Stesso viaggio e manifestazione per Benedetta Durando che partecipò come riserva. La speranza è che questo passato possa ripetersi per le nuove generazioni di atleti. Questa passione è nata perché un giorno un'amica di mia mamma, Benedetta Durando, ha chiesto a mia mamma se volevo venire a provare scherma e subito mi sono appassionata. Da bambino mi piacevano molto le spade, collezionavo spade. Mia nonna mi ha detto che c'era uno sport proprio di spade e allora ho voluto subito provare. È stata una grande emozione diventare campionessa italiana. Cosa hai provato in quei momenti? Ho provato tantissima gioia, felicità e avevo molta adrenalina in quel momento perché non sapevo come contenermi. Mi piace anche perché posso fare tante conoscenze anche in giro per Italia. Per te l'Olimpiade è un sogno nel cassetto per il futuro? Sì, sarebbe molto bello e un bel risultato sarebbe. Allora io in quest'Olimpiade volevo seguire per di più Alice Volpi e Martina Favaretto, però anche le altre comunque le seguirò sempre. Certamente, come tutti sperano di arrivare. Io seguirò Tommaso Marini e spero che l'Italia possa andare bene. Tommaso Marini e Martina Favaretto